Musica Ciao a tutti, sono Filippo Matucci e insegno batterie al Tecnic. I corsi di batteria sono differenziati per età e per livello di preparazione e mirano a far acquisire ad ogni allievo gli strumenti necessari per affrontare situazioni di musica live e di solismo. Tutti i corsi si basano sullo studio della tecnica, della lettura, dell'indipendenza degli arti e della cura del suono. Vi aspetto da Tecnic per una lezione di prova gratuita. www.tecniciclab.it A tutta! www.tecniciclab.it www.tecniciclab.it Grazie a tutti.